Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione e alle ultime notizie dal territorio. Firmato il nuovo DPCM che dispone le nuove limitazioni, oltre alle già note misure di contenimento è stato introdotto il coprifuoco per tutti dalle 22 alle 5. Nessuno potrà circolare sulle strade se non per comprovate esigenze. Il nuovo decreto inoltre individua delle conseguenze da attivare a seconda delle aree geografiche del loro stato di gravità. Per tutti infatti valgono le stesse norme, ma se il Ministro della Salute dovesse stabilire che un territorio assume le sembianze di elevata o massima gravità verranno adottati limiti molto stringenti. Gli spostamenti tra regione saranno consentiti se i territori faranno parte dello stesso grado di rischio. In caso di rischio elevato le attività commerciali, tranne quelle essenziali, dovranno restare chiusi. Gli scenari di gravità saranno indicati con i colori giallo, arancione e rosso. Il territorio sarà classificato in base a parametri che tengono conto dell'indice di contagio RT, dei focolai e delle situazioni di occupazione dei posti letto e delle saturazioni nelle terapie intensive degli ospedali italiani. La definizione dei confini delle zone d'intesa con i governatori potrà riguardare l'intera regione o parti del territorio. Non accenna purtroppo a frenare la curva dei contagi in Italia ma anche nella regione Veneto. Sentiamo il bollettino Covid delle ultime 24 ore. Non frena la curva dei contagi in Veneto nelle ultime 24 ore 2.436 nuovi positivi. A riportarlo il bollettino Covid-19 della regione Veneto. Il totale dei positivi raggiunge 65.531 contagi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 37.536. 1.193 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto. 155 sono in terapia intensiva. Il presidente Zaia ha annunciato una delibera di giunta che prevede la costituzione di un comitato di crisi composto da esperti sanitari con i quali mantenere un costante confronto. Il presidente si è inoltre rivolto anche ai cittadini lanciando un appello. Non fate l'errore delle visite ai parenti. Abbiamo tanti focolai domestici perché si pensa che andare a trovare un parente, genitori, zii, non sia pericoloso anche se non sono conviventi. Non è così, ribadisce Zaia. Se li andate a trovare tenete sempre la mascherina e le distanze ma possibilmente non andate. E proseguiamo parlando di cronaca a Padova. Operazione antidroga da parte della Polizia di Stato, sempre impegnata per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrata a cocaina ed eroina che era nascosta all'interno di un orsetto di peluche, all'interno di un'abitazione. Arrestati per possesso di quasi un etto e mezzo di eroina e cocaina, due nigeriani incensurati che da alcuni mesi dimoravano in città anche se avevano residenza a Siena. E adesso dobbiamo spostarci a Marconna, dove questa mattina purtroppo è avvenuto un incidente sul lavoro all'interno di una fonderia. Un uomo ha perso la vita. Incidente sul lavoro all'interno di una fonderia a Marconna. Un uomo ha perso la vita. È rimasto schiacciato da un manufatto di ferro. Immediatamente il personale ha tentato di fare il possibile ed è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori assieme a vigili del fuoco e al SUEM. Purtroppo il medico ha dovuto dichiarare il decesso dell'uomo. Sul posto presente il personale dell'ospisa e i carabinieri che dovranno appurare la causa dell'incidente. La commemorazione del 4 novembre 2020, giorno dell'unità nazionale, giornata delle forze armate, a differenza delle passate edizioni, si è svolta alla sola presenza delle autorità civili e militari a causa dell'attuale situazione e lo stato di emergenza. A Padova si è svolta una cerimonia sobria. Dopo l'alza bandiera e l'accensione della lampada votiva dei decorati al valore militare, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Il Presidente Mattarella ha sottolineato come le donne e gli uomini delle forze armate con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue dimostrano il loro essere risorsa preziosa e insostituibile in armonia con le altre articolazioni dello Stato. Al termine della cerimonia le autorità hanno deposto una corona dall'oro in onore ai caduti all'ingresso del municipio. Adesso ritorniamo a parlare di coronavirus e dell'importanza di proteggersi. Quasi tutti noi, in maniera magari inconsapevole, facciamo degli errori quando usiamo la mascherina. Sentiamo allora quali sono le attenzioni che dobbiamo avere. La mascherina è diventata un oggetto di protezione, ormai è entrata nelle abitudini quotidiane delle persone. Per difendersi dal virus però è bene tenere a mente gli errori da evitare, che se compiuti vanificherebbero lo sforzo di indossare il dispositivo. È fondamentale coprire bene naso e bocca posizionandola, avendo cura di toccare solo gli elastici o i legacci. Sulla parte superiore del naso c'è un ferretto che va compresso in modo da mantenerne bene la chiusura. Accertarsi di indossare la mascherina dritta. Ricordarsi che sono monouso. Nel caso di mascherine riutilizzabili procedere alle operazioni di lavaggio a 60 gradi con comune detersivo o secondo le istruzioni del produttore. Tra le brutte abitudini c'è l'errore compiuto dalla maggior parte delle persone, che è quello di tenere la mascherina in tasca, in borsa o appoggiarla su ripiani. È sbagliato, esistono contenitori fatti apposta oppure viene consigliato l'utilizzo di una busta. Prima di indossare la mascherina, lavate bene le mani. Pratica da ripetere più volte al giorno in ogni situazione che rappresenta un possibile rischio. A Padova la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione relativo all'intervento e delizio di ristrutturazione e riconversione ad uso residenziale per la locazione a canone calmierato delle palazzine di via Vergerio, un tempo utilizzate come sede degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate. Gli alloggi, una volta realizzati, contribuiranno a dare una risposta alle esigenze abitative che emergono da ampie fasce di popolazioni, giovani coppie, famiglie a medio reddito che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione ma allo stesso tempo hanno un reddito troppo alto per avere diritto ad un alloggio pubblico. Si tratta quindi di un intervento privato sociale che sarà realizzato da un fondo immobiliare specializzato in questo tipo di iniziative. Gli alloggi saranno destinati alla locazione permanente o se temporanea per almeno una durata di otto anni con l'impegno di applicare canoni di locazione predeterminati potranno essere venduti al termine del vincolo locativo solo come prima casa con diritto di prelazione da parte dei conduttori a un prezzo di cessione convenzionato. E restiamo ancora a Padova, parliamo di alberi perché è in partenza un progetto davvero molto importante per il territorio. Sentiamo. A Padova la Giunta Comunale ha approvato un progetto da 400 mila euro per gli interventi legati alla cura, alla conservazione e al riassetto del patrimonio arboreo quindi alla prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità e al miglioramento della sicurezza delle aree stradali cittadine. Il progetto nello specifico riguarda i lavori di manutenzione degli alberi stradali e di quelli nelle aree verdi comunali e le priorità di intervento vengono definite secondo quanto prescritto dal piano di gestione delle alberature il piano che permette di gestire e organizzare in maniera organica e preventiva il lavoro di cura. Già individuate le vie padovane che avranno la priorità e inoltre sono interessati tutti gli alberi nelle aree verdi comunali che siano parchi o giardini delle scuole. Sono previsti interventi per verificarne la stabilità e individuare eventuali problemi del loro stato di salute. I lavori di manutenzione prevedono messa in sicurezza delle alberature stradali realizzati con potature mirate e se necessario con abbattimenti. E diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo realizzate da Arpav Veneto per la giornata di domani giovedì sul territorio Veneto è prevista una residua variabilità con alcuni addensamenti nuvolosi e significativi spazi di sereno. È tutto per questa edizione dedicata alla parte regionale rimanete con noi perché tra pochissimo andrà in onda lo spazio nazionale, economico e sportivo. Vi auguro una buona serata.